Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Sono 26 le linee del trasporto pubblico che questa mattina cambiano percorso in centro per il corteo che sfila da Piazza della Repubblica via dei Fori Imperiali passando per via Cavour. La manifestazione si svolge nel giorno della mobilitazione globale per il clima. I cortei sono in programma anche domani al mattino dal Circo Massimo a Piazza di Porta San Paolo e poi nel pomeriggio di domani da Piazzale Tiburtino a Viale dello Scalo San Lorenzo. Con la chiusura al traffico dei percorsi interessati dalle manifestazioni saranno deviate 18 linee al mattino e altre 4 nel pomeriggio. L'elenco in dettaglio è anche sul sito romamobilita.it. Grazie a tutti.